Lavorare in un co-working e in generale in uno spazio come Talent Garden è andare un pochino oltre al semplice ufficio. Il co-working è una condivisione di idee e una condivisione di attività lavorative, quindi lavorare in uno spazio di co-working come quello di Talent Garden, quindi verticale nel mondo digitale dell'innovazione, vuol dire mettersi a confronto e a contatto con tutto ciò che è il meglio di start-up, freelance, agenzie che oggi girano su un territorio. In questo momento Talent Garden è il momento di totale accelerazione, proprio la prossima settimana apriremo il primo Talent Garden in Spagna, il decimo Talent Garden in Europa, siamo partiti tre anni fa da Brescia e in questo momento la rete conta più di dieci punti tra Italia, Spagna, Lituania e stiamo crescendo molto velocemente. Partire dall'Italia ed essere un imprenditore è una cosa molto difficile e complessa, ma dall'altra parte è molto stimolante. È difficile e complessa perché ci troviamo in un quadro normativo complicatissimo, in un paese che non ha un investimento di rischio molto sviluppato, ma dall'altro ci troviamo in uno dei paesi del mondo dove si vive meglio e dove è più facile tenere le persone all'interno della propria azienda. Quindi sì, la cosa importante è forse partire dall'Italia ma essere internazionale, quindi prendere il meglio di ciò che è il nostro paese, il potere portare persone internazionali in Italia, ma dall'altro essere una piattaforma connessa con tutto il resto del mondo e quindi poter accedere a talento, poter evitare tutti i problemi di uno stato abbastanza piccolo come l'Italia.